Papponisi contro Borussia Cagliari è uno dei big match di questo turno di Serie A aspettando la super sfida di mercoledì sera tra quarto United e No Cup parte bene il Borussia con Casula e con Lai che si salva da quest'altra parte il vantaggio degli ispapponisi realizzato da Gianluca Maina si insiste la formazione di casa a Zeni al volo pallone di poco alto poi Scarano con un intervento mostruoso evita il 2 a 0 nulla da fare però per il portiere giallonero su questa conclusione spettacolare da parte di Matteo a Zeni si va a riposo con la formazione di Marco Melis avanti di due reti in avvio di ripresa la squadra in maglia verde raggiunge subito la terza rete a realizzarla e Franceschi che batte con una conclusione dall'istanza il portiere avversario Scarano rieccolo il Borussia sia pure ormai sembri proprio essere tardi Carlo Cao riduce le distanze con un preciso mancino da centro area di rigore poi ci prova a Zeni due volte su calcio di punizione sugli sviluppi di un calcio di punizione Franceschi qui ancora una volta strepitoso Matteo Scarano poi Borussia due volte vicino al gol prima con Vacca su calcio di punizione poi con Zamboni ottimo nella circostanza Simone Lai finisce così alla futura Ispapponisi batte Borussia 3-1 e si riaccredita nella lotta allo scudetto